gli hanno fatto una multina gli hanno fatto una multa per eccesso di velocità e li hanno lasciati andare e questo è questo il calcio italiano ragazzi io non ho mai fatto video contro la juve ma è successa una roba scandalosa che secondo me farà la storia non è non è la pirateria che uccide il calcio sono non sono queste cose quello è successo oggi e uccide il calcio italiano una multa da 700 da 718 mila euro ma sono gravi secondo me anche le parole del presidente del verona se ho ben capito che insomma fa capire ragazzi la mano lava l'altra e tutti e due lavano il viso come si dice in toscana se ho capito bene ho letto le dichiarazioni io poi magari voleva intendere un'altra cosa ma il calcio italiano è questo ragazzi è un calcio ad oggi morto un calcio che ha perso molto appello non è il campionato di vent'anni fa e quindi hanno dovuto tenere in piedi della juventus dall'esame di suarez a tutto quello che comunque hanno combinato perché hanno patteggiato quindi patteggiando spesso quando uno patteggia perché dice sì ok ho sbagliato veniamoci incontro quindi le parole di gravina secondo me sono scandalose oltre che gravi e io penso che oggi si sia creato un precedente molto pericoloso nel calcio italiano io penso che oggi con questa decisione assurda penso si sia creato un precedente molto pericoloso ovvero sia tu possa fare che tu puoi fare quello che vuoi nel calcio allora l'inter è indebitata fino agli occhi ma lo sanno tutti è vero c'è addirittura la repubblica scrive di fallimento inter tutto quello che volete ma a questo punto allora anche noi potevamo fare come ha fatto qualche di un altro che ha preso una piccola multa e tenere ancora kimi e lukaku a quest'ora avevamo ancora kimi e lukaku e due anni fa non c'era bisogno di venderli cioè o vale per tutti o non vale per nessuno come funziona è uno schifo ho sentito anche i ragazzi di lasciare altre richieste dei dati basta disdico l'abbonamento a sky da zone guardo le partite sulle app basta non è la pirateria che uccide il calcio ovviamente lo sto dicendo in maniera ironica anche la pirateria ha la sua grande percentuale ma ragazzi ma vi rendete conto di cosa è successo oggi la dovevano mantenere in piedi la juve ma io tanto lo dico non la manderanno mai in selebilla devono mantenere in piedi perché già il campionato italiano è quello che è se toglie anche la juve c'era rimasto in milan che ci si fa con in milan non si sa più come farli nemmeno pareggiare noi quelli del milan che ci facevano in milan con la juve almeno c'era un po più c'era un po più d'attesa è una roba vergognosa è una roba vergognosa il calcio italiano oggi muore ragazzi oggi è morto il calcio italiano speriamo che possa tornare non ti dico ai livelli di 20 anni fa ma speriamo che possa tornare in generale lo dico ma anche per l'inter no guarda io te lo dico non è giusto che anche l'inter va davanti con tutti questi debiti cioè io sono il primo io l'ho sempre detto anche sul mio canale nelle live l'ho sempre detto non è giusto non è nemmeno giusto che l'inter va davanti tutti questi debiti ma non è giusto nemmeno vedere e sentire quello oggi è successo altro che i debiti dell'inter oggi è successo una roba scandalosa oggi il calcio italiano muore spero spero possa rinascere ma ragazzi così non si va non si va da nessuna parte oggi te lo ripeto oggi si è creato un precedente molto molto periodoso e ognuno può fare quello che vuole cosa dobbiamo fare siamo tifosi vogliamo tutti bene alle nostre squadre sicuramente guarderemo uguale le partite però ragazzi io sinceramente sono un po schifato ciao inter